I poliziotti della questura di Caltanissetta negli ultimi giorni hanno eseguito diverse misure cautelari disposte dai giudici nei confronti di persone indagate a vario titolo per maltrattamenti in famiglia, lesioni e stalking. Si tratta di un'attività finalizzata alla prevenzione di episodi di violenza di genere nei confronti delle donne, in particolare sui cosiddetti reati spia. Episodi di questo tipo, infatti, possono indicare il rischio di episodi di violenza sessuale o psichica. Tra il 2020 e il 2021 sono stati 147 gli omicidi dimaturati in ambito familiare, secondo il dato generale diffuso dal servizio di analisi criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. In materia di reati di violenza, la polizia ha lavorato sul supporto alle vittime, avvalendosi di psicologi, medici e personale specializzato in tali dinamiche, in modo da convincere coloro che subiscono vessazioni di ogni genere a denunciare. Recentemente a Caltanissetta è stata realizzata all'interno della questura una sala per le audizioni protette delle vittime di violenza.